Oggi vorrei parlare con te di quali sono le basi chimiche termodinamiche, fisiche in realtà, della selettività dei canali del potassio per il potassio. Dirai, questo non è un gran problema. In realtà sì, c'è un problema termodinamico, perché vedremo che i canali del potassio sono 10.000 volte più selettivi al potassio rispetto al sodio. E se ci pensi, è un problema interessante, perché? Perché il potassio e il sodio sono due cationi monovalenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono due specie chimiche cariche positivamente con una carica, con un numero di valenza 1. Quindi vuol dire che hanno le stesse caratteristiche chimiche, hanno la stessa carica. Quindi vuol dire che la selettività per questi due ioni non è basata sulla carica, infatti vedremo che non è così, non è basata sulla carica. Allora, qual è l'unica differenza però che c'è tra questi cationi potassio e cationi sodio che rende, diciamo, che rende onore a questa selettività? Beh, la dimensione. I canali del sodio, il sodio è più piccolo rispetto al potassio. E tu dirai, ma questa cosa allora non ha senso, perché se tu prendi un qualunque tubo, ok, di qualunque sezione, allora è più probabile che vi passino all'interno delle palline di piccola dimensione o della dimensione esattamente del tubo. Cioè se tu hai un tubo, no? E in questo tubo io posso far passare due palline. Una nella dimensione esattamente del tubo, quindi che ha esattamente il diametro del tubo, e un'altra che è più piccola, quale delle due passerà? Probabilmente quella più piccola. E qui il caso è uguale, quello tra il potassio e il sodio. Io immaginiamo un canale del potassio come un tubo, io ho due palline che posso far passare, cioè due ioni. Quali sono questi due ioni? Ho il potassio che è esattamente il diametro del tubo, mentre il sodio è più piccolo. Ma nonostante questo, nonostante la dimensione di questi due ioni sia diversa, cioè nonostante il sodio sia più piccolo, la biologia ci dice che lui ha una probabilità 10.000 volte minore di attraversare questo canale del potassio. Vediamo adesso perché. Il potassio in una cellula è normalmente concentrato, in condizioni di riposo, 145 millimolare nel citosol, nello spazio extracellulare invece è concentrato 5 millimolare, cioè c'è una differenza di concentrazione molto elevata tra lo spazio citoplasmatico e lo spazio extracellulare. Quando si aprono i canali del potassio, che sono presenti in grande concentrazione nella membrana plasmatica, possono essere attivati da migliaia di stimoli, da un ligando, possono essere attivati da uno stimolo elettrico, cioè da una depolarizzazione, molto spesso vedremo, un esempio specifico nelle cellule beta-pancreatiche, questi canali del potassio possono essere aperti quando la concentrazione di calcio è molto elevata, questo vedremo permetterà di mantenere un certo tipo di equilibrio e evitare una ipersecrezione insulinica, no? Ma questo succede anche nei neuroni, banalmente. Quindi questi canali del potassio possono essere attivati da migliaia di stimoli, ligando, depolarizzazione, stress meccanico. Quando si aprono, beh, cosa succede? Il flusso diioni potassio segue il suo gradiente, cioè va dal citoplasma nello spazio extracellulare. Ovviamente, dato il fatto che il potassio è carico e controbilancia quelli che io ho definito come anioni fissi, là non si otterrà mai un'uguale concentrazione nel citosol e nello spazio extracellulare, perché in realtà il potassio non segue solo il suo gradiente chimico, ma segue il suo gradiente elettrochimico. Per fartela semplice, il potassio inizia a fuoriuscire secondo gradiente di concentrazione, però a un certo punto cosa succede? La forza elettrica, cioè il campo elettrico generato da questi anioni fissi che ormai sono sbilanciati, perché non ci sono più potassi, più ioni potassio a bilanciarli, beh, iniziano a richiamare ioni potassio verso l'interno. Quindi qua ci sono due forze. C'è una forza di, c'è un gradiente chimico e c'è un gradiente invece elettrico, quindi si instaura un gradiente elettrochimico. Bene, ora immaginiamo di zoomare su questo canale del potassio qualunque e vediamo qual è la sua struttura. Come vedi qua, in realtà questa è una sezione di un canale del potassio, cioè immaginiamo di prendere una membrana e sezionarla a metà. I canali del potassio in realtà sono dei tetrameri, cioè sono formati da quattro subunità identiche tra loro. Qua ti faccio vedere soltanto due subunità. Come sono fatte le subunità? Allora, rappresentano ciascuna subunità formata da due alfa eliche transmembrana, queste qua che vedi. Una viene detta elica transmembrana esterna e l'altra invece viene detta elica transmembrana interna. Poi abbiamo invece un'elica fondamentale che si chiama elica del poro che non è transmembrana ma è in grado, sarà poi lei in grado di definire la selettività ionica, che vedremo, come ti ho già detto, sarà definita non dalla carica ma dalla dimensione dell'ione. L'ione più grande in questo caso sarà più, sarà quello che passerà più facilmente rispetto all'ione piccolo. L'ione potassio è più grande dell'ione sodio. Ora, vediamo un attimo, prima di capire quali sono le basi termodinamiche della selettività ionica, capiamo cosa succede, qual è la normale, diciamo, natura di uno ione nel citosol. Facciamo un confronto. L'ione potassio, come ti ho detto, è più concentrato nel citosol rispetto che nello spazio extracellulare. L'ione sodio è il contrario. Però, in generale, ci sono ioni sodio all'interno del citosol. E vediamo cosa succede. Gli ioni, nel citosol e nello spazio extracellulare in generale, sono sempre solvatati. Cioè non si trovano mai, quando sono nel citosol o nello spazio extracellulare, non si trovano mai liberi dalle molecole d'acqua, ma sono sempre, interagiscono sempre con le molecole d'acqua. E vediamo come. Questo a sinistra è un ione potassio e interagisce con quattro molecole d'acqua. Come sai, la molecola d'acqua è una molecola polare, perché fatta in questo modo, presenta l'ossigeno con due idrogeni ed è una molecola polare perché l'ossigeno è più elettronegativo degli idrogeni, quindi si forma quello che viene detto un momento polare netto, questo qua, e quello che rende, diciamo, ragione della natura della molecola d'acqua. La molecola d'acqua, quindi quando solvata l'ione potassio, interagisce col suo atomo di ossigeno elettronegativo, carico negativamente, con gli ioni potassio, si orienta, come ti ho mostrato. Questo vuol dire, si dice proprio, che è solvata l'ione. Ora, questo succede anche per il sodio, quando si trova nel citoplasma. Qual è la differenza? La differenza è che il sodio è più piccolo. Hanno entrambi la stessa carica, ma il sodio è più piccolo, ha un volume minore. Quindi qual è il problema? Il punto è che il sodio, avendo un volume minore rispetto al potassio, ha una maggiore densità di carica. Questo vuol dire che quella carica positiva viene spartita su una minor superficie, quindi è come se lui risultasse fondamentalmente più carico sulle molecole d'acqua. Poi vi faccio vedere una cosa. L'ione potassio, infatti, ha un raggio ionico pari a 1,33 Armstrong. Armstrong, sì, è una misura, si misura come 10 alla meno 10 metri. Ok, questo è un Armstrong. Mentre l'ione sodio ha circa un Armstrong, ok? Bene, quindi sappiamo che è veramente più piccolo. Ora, cosa succede? Noi sappiamo che il processo di solvatazione di un ione è un processo esoergonico, cioè un processo che rilascia energia. Adesso vediamo qual è l'equazione che ci descrive questa differenza, ma voglio farti capire il concetto. Allora, la solvatazione è un processo esoergonico. Cosa vuol dire? Vuol dire che è appunto un processo che è favorito dal punto di vista energetico. Abbiamo capito studiando l'acidratosintasi nello scorso video. Quando un reagente è meno stabile di un prodotto, cioè quando un prodotto è più stabile di un reagente, la reazione tende spontaneamente e esoergonicamente ad andare verso i prodotti per mantenere il minimo grado di energia potenziale. Ecco, la solvatazione è un processo favorito. Perché? Perché questo è l'esempio. Questo è l'esempio. Il potassio in questo caso è libero, non solvatato. Quando, se lo metto nel citosol, le molecole d'acqua li vanno intorno, inizio a solvatarlo. Cioè, iniziano a formare interazioni intermolecolari deboli, interazioni elettrostatiche con il potassio. Ma di che tipo? Sono interazioni elettrostatiche trattive. Guarda, queste sono le molecole d'acqua con gli ossigeni carichi negativamente in rosso. Queste interagiscono con il potassio attraverso un'interazione tra una carica negativa, l'ossigeno, e la carica positiva, il potassio. Questa interazione elettrostatica è un'interazione tra due cariche di segno opposto. E noi sappiamo dalla legge di Coulomb che un'interazione tra due cariche di segno opposto stabilizza il sistema. Cioè l'energia potenziale diminuisce. L'energia potenziale elettrostatica diminuisce. Questa è la ragione di tutta la biologia, fondamentalmente. Il motivo per cui le proteine si foldano e ci si ripiegano, basato proprio dall'interazione intermolecolare tra cariche di segno opposto. Ecco, quindi abbiamo capito un concetto importantissimo per ricapitolare e poi capiamo qual è la differenza tra l'ione potassio e l'ione sodio solvatati in acqua e poi capiremo perché finalmente questo ione potassio può attraversare il canale del potassio così liberamente. Abbiamo capito quindi cosa? Gli ioni potassio e gli ioni sodio sono sempre solvatati in acqua, quando si trovano nel citosol e nello spazio extracellulare, che la solvatazione, cioè l'interazione tra le molecole d'acqua e gli ioni, è un processo esoergonico, cioè abbassa l'energia libera di Gibbs. Ora capiamo però se è più, diciamo, se rilascia più energia, quindi se è più favorito la solvatazione del potassio o del sodio. Ecco, abbiamo un'equazione che ci descrive tutto questo, che si chiama equazione di Born. L'equazione di Born ci descrive quella che si chiama il delta G' di solvatazione, cioè l'energia libera di solvatazione, cioè l'energia che viene rilasciata quando un ione viene legato da delle molecole d'acqua. Questa equazione presenta diversi termini, che non vediamo tutti, ma presenta dei termini importanti. Presenta un meno, e noi sappiamo che meno indica quando il delta G è uguale sempre a qualcosa di negativo, cioè noi sappiamo che un processo è favorito, meglio, quando il delta G, cioè l'energia libera, è negativa, quindi questo meno ci piace. Poi abbiamo un termine che è 1-1 su epsilon, epsilon è una costante dielettrica, indica semplicemente dove ci troviamo, il mezzo in cui noi analizziamo la reazione, in questo caso acqua. Poi qui però abbiamo un Q, una carica, una carica dell'ione che stiamo prendendo in considerazione, l'ione che viene solvatato. In questo caso, se facciamo un confronto al potassio e al sodio, la carica è sempre 1. Quindi questo non cambia. Poi abbiamo dei termini costanti, 8π ε con 0, ε con 0 è una costante dielettrica nel vuoto. Poi invece abbiamo qui questo raggio. Abbiamo questo raggio, che è un termine fondamentale. Come vedi però, questo raggio, il termine A che è il raggio, è al denominatore di questo secondo membro. Cioè, prendi questo secondo membro, e vedi che questo termine qui è al denominatore di questa carica. Cioè, tu hai la carica, Q al quadrato, strato 8π ε con 0 per il raggio, per, per tutta questa roba qua, che è costante, ce ne frega niente. Quindi, quello che a noi interessa, per capire qual è la differenza, in questo caso, tra il sodio e il potassio, questo A è il raggio. Quindi, e quindi, il sodio ha un raggio minore, abbiamo visto, di circa un Armstrong rispetto al potassio. Quindi, eh, se tu metti qui un numero piccolo, cosa succede? Succede che questo termine diventa più grande. Perché se io metto un termine al denominatore più piccolo, tutta la frazione diventa più grande. Se diventa più grande, io la moltiplico per una costante, quindi non ce ne frega niente, però io ho meno davanti. Quindi vuol dire che minore è il raggio, maggiore questo secondo membro, il valore di questo secondo membro, e quindi più negativa è tutta questa espressione. Più negativa significa che la reazione è più favorita. Cioè, o meglio, vuol dire che, diciamo, torniamo a noi, vuol dire che, se io prendo il sodio, che ha un raggio minore, vuol dire che la sua energia libera di solvatazione sarà ancora più negativa rispetto al potassio. Perché? Perché ha un raggio minore. E quindi ha una densità di carica maggiore. E tutto. Ora, tutto questo, però, ci manca ancora un passaggio. Perché va bene che il sodio è, il sodio, diciamo, rilascia più energia rispetto che il potassio nel processo di solvatazione, perché ha una carica, perché ha un raggio minore, e quindi ha una densità di carica maggiore. Tutto questo come ci aiuta? Adesso lo vediamo. Un concetto, però, che ti voglio dire, prima di capire questa differenza, è che se il processo di solvatazione, cioè di formazione di queste interazioni intermolecolari tra l'acqua e gli ioni, è esoergonico, il processo di rottura, che prevede la rottura di queste interazioni, è endoergonico. Cioè è un processo che prevede di, che richiede di fornire energia al sistema. Quindi è un processo sfavorito dal punto di vista energetico. Cioè, se io per andare dal sodio libero al sodio solvatato devo guadagno energia, per fare il contrario, l'energia la spendo. Perché quando rompo dei legami, quando rompo dei legami, in questo caso, deboli, io, per rompere dei legami, io devo sempre fornire dell'energia. Quindi è un processo endoergonico. Ora, torniamo un attimo alla struttura del nostro canale del potassio per capire bene in che modo è selettivo non solo verso gli ioni sodio, ma anche verso altri tipi di ioni. Sappiamo che nella cellula non ci sono solo sodio e potassio, ma abbiamo visto che ci sono anche gli agioni fissi. Sono presenti anche altri tipi di ioni, come per esempio gli ioni cloro. Come facciamo a essere selettivi nei confronti degli ioni cloro? Allora, qui è molto facile perché gli ioni potassio sono carichi positivamente e gli ioni cloro sono carichi negativamente. Ma un altro motivo è che sulla faccia citosolica e sulla faccia extracellulare delle, soprattutto delle alfa eliche transmembrana, sono presenti degli amminoacidi carichi negativamente, acidi aspartici per esempio. Questo cosa fa? Fa sì che a pH citosolico loro siano deprotonati, quindi siano, come si vede qua, carichi negativamente. Quindi loro vanno a respingere direttamente, ancora prima di entrare all'interno del nostro canale del potassio, vanno a respingere gli ioni. Quindi questo è già un metodo per essere selettivi, per andare a escludere tutti gli anioni. Ora, se noi andiamo in realtà però a analizzare proprio il poro in cui passano i canali del potassio, vediamo due particolari regioni. Una regione è di ingresso, che si chiama vestibolo, e una regione invece, quella dove avviene la magia, che si chiama filtro di selettività. Immaginati, l'ione potassio si trova nel citoplasma, ok, qui, l'ione potassio inizia a trovarsi qua nel citoplasma, tutto solvatato dalle sue molecole d'acqua sempre, quindi questo, immagina le molecole d'acqua che lo solvatano, e lui entra, quindi il canale del potassio si apre, e lui entra all'interno della prima regione, che però è già transmembrana, vedi, è già transmembrana, che si chiama vestibolo. Questa regione, le alfa eliche non determinano ancora la selettività. Cioè, lo spazio del vestibolo è ancora abbastanza grande, per poter permettere all'ione potassio di essere solvatato. Questo perché, che in realtà, durante il processo di, durante il passaggio nel poro, l'ione potassio e gli ioni in generale si devono desolvatare, ecco perché tutto il discorso sulla solvatazione. Però nel vestibolo, che è la prima regione, gli ioni potassio sono ancora solvatati, quindi sono ancora belli stabili lì. Questo perché, come abbiamo detto, la solvatazione è un processo peso-ergonico. L'entità dell'energia libera, che viene rilasciata, l'abbiamo calcolata con l'equazione di Born. Bene. Ora, per passare all'interno del filtro di selettività, devono essere desolvatati, cioè dobbiamo spendere dell'energia. Attenzione, adesso vediamo. In realtà, vediamo un attimo qual è la struttura di questo filtro di selettività. Il filtro di selettività non è altro che un loop, cioè i loop sono quelle regioni delle proteine, che non sono strutturate. Questo loop, parte dall'alfa elica interna e connette l'alfa elica interna con quella che viene detta elica del poro, quella che ti descrivevo non transmembrana. Su questo filtro di selettività sono presenti tre gruppi carbonilici per filtro di selettività. questa in realtà in particolare viene detta ansa di selettività, cioè l'ansa di selettività è quella che connette l'alfa elica interna con l'elica del poro. Il filtro di selettività è tutta la struttura che si viene a creare quando abbiamo la sovrapposizione delle anse di selettività. Cosa importante, ricordati, è un tetramero. Quindi avremo quattro anse di selettività. Ne avremo due di qua e due di qua. Quindi l'oilione passa esattamente in mezzo, qui te ne faccio vedere solo due. Ora, vediamo cosa succede. Ecco, nell'ansa di selettività i gruppi carbonilici, nell'ansa di selettività dei canali del potassio, i gruppi carbonilici si trovano esattamente alla distanza corretta per poter far passare il catione potassio non solvatato. Quindi in realtà la selettività è una selettività dimensionale. Ma c'è un problema. Perché in questo caso la desolvatazione, come abbiamo detto, per passare all'interno di questi gruppi carbonilici fondamentalmente, beh, il nostro potassio deve essere desolvatato. Perché? Perché semplicemente il potassio solvatato ha un raggio che è maggiore rispetto a quello desolvatato, chiaramente. Quindi, dobbiamo perdere queste molecole d'acqua. Come vedi, il delta G aumenta perché è un processo endoergonico, rompo delle interazioni. Ora, il punto qual è? Che quando però, è vero che è un processo endoergonico, cioè è vero che spendo dell'energia, però questa energia viene liberata di nuovo quando interagisce, quando l'ione potassio interagisce con i gruppi carbonilici. Cioè, è vero che io ho dissolvato il mio ione potassio, quindi spendo dell'energia, ok? Però questa energia la riguadagno quando vado a interagire con i gruppi carbonilici del filtro di selettività. Perché questo? Perché i gruppi carbonilici del filtro di selettività sono all'esatta distanza per poter accogliere un catione potassio e per poter quindi formare queste interazioni ione-dipolo che permettono di ristabilizzare l'ione stesso. Quando l'ione poi fuoriesce dal filtro di selettività viene nuovamente solvatrato. Ora, per farci capire ancora meglio, vediamo questa cosa, vediamo qual è, facciamo un esperimento mentale. Immaginiamo di, cioè in realtà non è un esperimento mentale, adesso vediamo. Vediamo qual è la differenza tra la solvatazione dell'ione sodio e dell'ione potassio. Cioè vediamo perché, finalmente, l'ione sodio ha una probabilità che 10.000 volte è minore di passare attraverso il cane del potassio rispetto che il potassio stesso. Ok, vediamo. Immaginiamo che questo qua sia l'ione, facciamo una differenza tra l'ione potassio, un confronto tra l'ione potassio nel vestibolo e l'ione sodio nel vestibolo. Allora, il vestibolo ti ricordo che è questa regione qua, Quella dentro la membrana, però, dove però gli ioni si trovano ancora solvatati. Ok, abbiamo visto bene, prima, che gli ioni potassio e gli ioni sodio sono solvatati, però, gli ioni sodio, quando è solvatato, ha una, diciamo, ha una stabilizzazione maggiore rispetto all'ione potassio, perché, avendo un raggio minore, grazie all'equazione di Born, sappiamo che la sua energia di solvatazione è più negativa. Quindi, il processo di solvatazione dell'ione sodio è un processo che libra più energia rispetto che l'ione potassio. Perché? Perché abbiamo visto che il suo raggio è minore. Bene, quindi, come vedi, c'è una maggiore forza di interazione, è più stabilizzato, è più stabile, è più tranquillo. Ora, qui siamo nel vestibolo, cosa succede però quando l'ione potassio passa nel filtro di selettività? Abbiamo visto che lui interagisce con i quattro gruppi carbonilici, quattro perché sono ognuno per ogni dominio. Però, l'ione potassio ha un raggio esattamente perfetto per inserirsi desolvatato e interagire, attenzione, con tutti e quattro i gruppi carbonilici. Quindi, un'ione potassio interagisce con tutti e quattro i gruppi carbonilici insieme. Fondamentalmente, questi gruppi carbonilici cosa fanno? Mimano le molecole d'acqua. E quindi, questo permette di bilanciare energeticamente l'ione nel vestibolo e l'ione nel filtro. Quindi, l'ione potassio può tranquillamente stare sia nel vestibolo che nel filtro di selettività. Almeno, non le frega niente. Tanto sempre quattro interazioni deboli forma. Quindi, lui è perfetto. È bilanciato. Nel caso dell'ione sodio, invece, il processo è diverso perché nell'ione sodio lui è molto stabile intanto rispetto al potassio, è molto più stabile nel citosol. Ma cosa succede? Se lui entra nel filtro di selettività, cosa succede in realtà? Quello che succede è che avendo un raggio minore, lui non è in grado di interagire con tutti e quattro i gruppi carbonilici. Come vedi, non può interagire con tutti e quattro i gruppi carbonilici, ma solo con due alla volta. Quindi, si vede che c'è uno sbilanciamento energetico. Cioè, per l'ione potassio è sfavorito a interagire con il filtro di selettività. Perché? Perché non sarà in grado di formare tutte le interazioni che normalmente forma con l'occhio. Quindi, vuol dire che termodinamicamente non è favorito. Quindi, per farci capire, per il sodio rispetto al potassio c'è uno svantaggio termodinamico nell'attraversare il canale del potassio. Perché? Perché lui, per due ragioni. Uno, perché lui è più stabile rispetto al potassio nel citosol. E la seconda ragione, perché lui, avendo un raggio minore, non è in grado di interagire con tutti e quattro i gruppi carbonilici. Il potassio, invece, avendo un raggio corretto per il suo canale, lui è in grado invece di formare tutte e quattro le interazioni con tutti e quattro i gruppi carbonilici che mimano esattamente le interazioni con le molecole d'acqua. Quindi, per ricapitolare, cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto che gli ioni sono normalmente presenti solvatati sia nello spazio citosolico che nello spazio extracellulare. Siamo concentrati per capire qual è la differenza l'energia libera che viene rilasciata nella solvatazione del potassio rispetto che il sodio e l'abbiamo visto con l'equazione di Born, abbiamo visto che il raggio è il fattore che determina chi dei due ha una maggiore energia libera di solvatazione, il sodio abbiamo visto che è quello che ce l'ha minore. Poi abbiamo visto qual è la struttura di un canale del potassio, è un tetramero che ho mostrato un dimero che è formato da quattro quindi subunità identiche, un omotetramero si dice in particolare una subunità è formata da tre alfa eliche due transmembrana e un'elica del poro orientata in modo tale da fornire grazie a questa panza di selettività quattro gruppi carbonilici per poter legare gli ioni potassio quindi per poter mimare se vogliamo l'interazione con le molecole abbiamo visto alla fine che lo ione sodio è sfavorito termodinamicamente attraversare il canale del potassio per due ragioni sia per una ragione sia legato al fatto che è più stabile in acqua rispetto che il potassio perché è un raggio minore ma anche perché avendo un raggio minore non è in grado di formare tutte e quattro le interazioni con i gruppi carbonilici